Sono circa 50 e senza fissa dimora censiti in città che vengono assistiti ogni giorno. C'è chi si sposta e accetta un pasto caldo o di dormire al riparo nelle strutture allestite per l'occasione, ma anche chi preferisce restare in strada, facendosi consegnare un po' di cibo. A Salerno la solidarietà non si ferma neanche a Natale. La Caritas e la rete di associazioni, in collaborazione con il Comune, è al fianco dei più deboli. Ma, come avverte a 696 TV Don Flavio Manzo, da poche settimane alla guida della struttura diocesana, la povertà è sempre più diffusa e spesso invisibile per chi arriva in tante case di Salerno. Quando si parla del povero, nell'opinione pubblica, il povero è sempre visto solo quello che vive per strada, il senza fissa dimora. I numeri dei senza fissa dimora più o meno sono sempre gli stessi. Si aggirano intorno a una cinquantina. Il problema grosso che sta emergendo è che tante famiglie si trovano in difficoltà, tante famiglie che magari prima riuscivano a tirare avanti e adesso si trovano in questa difficoltà. Quindi certamente c'è una povertà che sta emergendo, alla quale noi diamo la risposta, ecco, con l'aiuto delle utenze, qualche aiuto per il fitto, sempre sostenendo le parrocchie, perché preferiamo sempre che vadano nelle proprie parrocchie di appartenenza, in modo tale che anche il parroco, i collaboratori, le caritas parrocchiali, i centri di ascolto, le caritas zonali possono conoscere meglio le situazioni e provvedere aiutando.